Basserpini, questa sera è venuta a Sperone a conoscere il fotografo ufficiale della manifestazione organizzata da questo quotidiano online Miss Calendario 2015. Siamo con Gianluca D'Argedio. Vogliamo spiegare un po' ai nostri ascoltatori quello che sarà organizzato nei prossimi giorni qui in questo studio fotografico? Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto ci tenevo a dire che ho subito sposato e l'idea mi illusinga tanto di Basserpini perché in effetti il tutto, tutta questa bella iniziativa avrà un fine benefico. Il ricavato infatti della vendita del calendario verrà devoluto in beneficenza. Le ragazze che saranno l'oggetto del calendario, non tanto misterioso perché qualcuno già può sbirciare qualche volto sul sito di Basserpinia, verranno qui nella mia location a realizzare questa sessione fotografica interna. Ovviamente ci sarà tutto un discorso di backstage fatto a monte di questa sessione fotografica e prossimamente la realizzazione verrà fatta per poi permettere la vendita in una data che se non erro sarà quella del 27 di dicembre. Allora, innanzitutto spieghiamo che abbiamo ben 24 ragazze in concorso per 12 posti sul calendario, quindi 12 mesi dell'anno. Sono ancora ai voti dei ragazzi, si potrà votare fino alla fine di questo mese. Poi le prime 12 avranno quindi la loro pagina del calendario. Sì, in effetti l'idea che poi risulta ancora in fase embrionale nella mia testa è quella di dare ad ogni mese, ad ogni ragazza, legare una tematica, una tematica diciamo legata al periodo, quindi un po' con il look, quindi avvalendoci della collaborazione di tecnici sia del capello che del trucco, una tematica diciamo che va via via ad avvicinarsi lasciando la stagione invernale, primaverile, estiva ed autunnale. E poi volevo spiegare che le altre 12 che non saranno comunque tra le prime comunque avranno il loro spazio. Sì, in effetti le altre 12 saranno poi praticamente immortalate, sempre nella location qui da me, per poi far parte di un composite, un collage, io addirittura a loro dare uno spazio proprio iniziale per far capire proprio la forte partecipazione, il senso di partecipazione di tutte queste ragazze, insomma che è veramente molto molto nobile.